This is Vitek Tape, show on air every day, indie music from Tavern di Corciano to the world. Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Tape, il programma ufficiale di Vitek Records. Io sono Rossella e starò in vostra compagnia per la prossima mezz'ora. Soul Scream, le distanze. Soul Scream 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 Children Scream Soul Scream Ma percepirò tutte le distanze Tra di me e i sogni della gente Se la vita è un sussurro assolgante Su di noi, su nulla e su niente Tra di me e i sogni della gente Tra di me e i sogni della gente Percepirò tutte le distanze Tra di me e i sogni della gente Se la vita è un sussurro assolgante Su di noi, su nulla e su niente Percepirò tutte le distanze Percepirò tutte le distanze Se la vita è un sussurro assolgante Su di noi, su nulla e su niente Benny S. è nato in Gran Bretagna e cresciuto alle isole Barbados La sua incredibile presenza scenica è stata paragonata a quella di Brian McKnight Ha iniziato a scrivere con il gruppo hip hop The Tribe Il suo amore, la passione per il canto e la facilità con cui lo fa Lo rende un vero professionista nel settore della musica Benny S. ha registrato e ad aperto per artisti che vanno da Frankie Valli, Tony Bennett, Sheehan, Wu-Tang, Rick Ross, Ace Hoods, Shontel Lane e Donny Klang Grazie a tutti 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 Giovanni Grazie a tutti 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 Mostro Grazie a tutti Gian Gianluca Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti